Si è ripetuta anche quest'anno giungendo alla sua settima edizione la fortunata iniziativa della sezione di Capodorlando della Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, la borsa di studio che premia le 12 allieve degli istituti orlandini che si sono distinte per meriti scolastici e sociali. È una manifestazione a cui io tengo particolarmente proprio perché la motivazione fondamentale della FIDAPA è quella di promuovere la cultura delle donne e quale migliore occasione è quella di promuovere delle bambine che diventano donne passando alla scuola superiore. Devo dire che quest'anno è stata un poco sottotono, è la settima edizione però è sempre un'emozione grandissima e queste ragazze ci ripagano di tutto. Ad ospitare la cerimonia di premiazione nel rispetto delle regole anti-covid è stata l'aula consigliare del Comune Paladino. A ricevere i due buoni libro in palio sono state Silvia Borici e Sofia Riolo. La di poter rendere orgogliosi i miei insegnanti, me stessa e i miei genitori che si sono sacrificati tantissimo e in futuro vorrei diventare avvocato. Con questa borsa di studio cercherò di anche acquistare libri che mi serviranno comunque per la didattica e per il futuro in realtà non sono molto sicura ancora però cercherò sempre di dare il massimo. Un riconoscimento importante perché è stato attribuito non soltanto a degli alunni, a delle alunne in questo caso che si sono distinte per particolari meriti scolastici ma che hanno dimostrato anche e soprattutto importanti dotti umane. Ed è questo il messaggio che è importante che deve restare da questa manifestazione, far comprendere che si studia sì per sapere, saper fare, saper essere, si studia per avere conoscenze, competenze e capacità ma si studia anche per l'avanzamento della propria classe in termini di inclusione di tutti i compagni e si studia anche per il progresso del territorio che è tale se parte dal rispetto della dignità umana, dal rispetto delle donne e dalle pari opportunità di genere. C'è bisogno sempre di iniziative, questa è un'iniziativa che quest'anno è stata fatta in maniera molto semplice e lineale nel rispetto di quelle che sono le norme ma è essenziale perché per coloro che pensano che ancora che già ci siamo alla parità delle donne in realtà io ritengo che non sia così. La mia esperienza da sindaco mi ha portato tante volte a dovere confortare e sostenere ad esempio delle donne sole o persone che per la motivazione di essere sole venivano anche psicologicamente diciamo subivano delle pressioni anche sul mondo del lavoro ed altro. quindi è un problema che ancora è presente. Bisogna fare in modo che queste ragazze oggi siano decise come ho visto io oggi e nello stesso tempo che gli uomini soprattutto capiscano che abbiamo probabilmente tanto da guadagnare nel riconoscere loro i ruoli che effettivamente gli competono.